Eccoci alle previsioni per il fine settimana sulla regione. Abbiamo una situazione sull'Europa depressionaria con una depressione che passerà sull'area alpina nella giornata di sabato da cui una depressione che si formerà sull'Italia e di cui in qualche maniera ne avremo le conseguenze. Quindi per la giornata di sabato sulla regione tempo incerto, instabile, con nuvolosità variabile, più intensa probabilmente sui monti dove avremo rovesci temporali piuttosto diffusi ma rovesci temporali sparsi saranno possibili alternati a fasi di tempo migliore anche su pianura e costa. Possibile qualche schiarite anche ampia sulla costa. Temperature massime in calo intorno ai 28-29 gradi per quanto riguarda la pianura e anche la costa. Per la giornata di domenica un miglioramento in genere il tempo più stabile specialmente al mattino con un cielo in genere sereno poco nuvoloso poi nel pomeriggio la possibilità di qualche rovescio di qualche temporale sulla fascia prealpina ma anche sulle zone orientali sarà possibile qualche isolato e breve rovescio nel primo pomeriggio. Temperature massime ritornano a salire oltre i 30 gradi portandosi probabilmente tra i 30 e 31. Poi dalla prossima settimana da lunedì ritorna l'anticiclone anticiclone che porterà cielo sereno e il cielo sereno lo avremo per diversi giorni con temperature che progressivamente aumenteranno per portarsi a metà della prossima settimana in pianura oltre i 35 gradi in quella che sarà la prima ed importante ondata di calore di quest'anno con temperature ben superiori alla media del periodo. Buon weekend a tutti!